Buongiorno a tutti, perdonati sul mio canale, in questo video vedremo domande di logica per le prove preselettive di concorsi della pubblica amministrazione, in particolar modo per il concorso IMS 1858 posti. In quale dei secondi gruppi di termini può essere inserito artatamente, la risposta inganevolmente, artificiosamente, fraudulentemente, mentacemente, falsamente? In quale dei secondi gruppi di termini può essere inserito azimato, elegante, abbigliato, curato, aglindato, inappuntabile? In quale dei secondi gruppi di termini può essere inserito procrastinare? La risposta è rimantare, riviare, tardare, posticipare o rogare. In quale dei secondi gruppi il numero 0 non segue immediatamente il 6 e il numero 8 non precede immediatamente il 3? La risposta è 806-863-066-88-00-8633-863068. In quale dei seguenti gruppi il numero 1, immediatamente preceduto dalla lettera A, la risposta è BDU-A1-W-W-F-B-J-B-Z-J-A-1-F-S-D-B-1-A-J-F-B-F-B. In quale dei seguenti gruppi il numero 1 non segue immediatamente il 6 e il numero 5 non precede immediatamente l'8? 5-6-8-6-8-5-1-F-B-J-A-1-F-B-J-A-1-F-B-J-A-1-F-B-J-A-1-F-B-J-A-1-F-B-J-A-1-F-B-J-A-1-F-B-J-A-1-F-B-J-A-1-F-B-J-A-1-F-B-J-A-1-F-B-J-A-1-F-B-J-A-1-F-B-J-A-1-F-B-J-A-1-F-B-J-A-1-F-B-J-A-1-F-B-J-A-1-F-B-J-A-1-F-B-J-A-1-F-B-J-A JLB159PND5W5C In quale desiderio di gruppi il numero 2 è eventualmente preceduto dalla lettera F? La risposta è HJ2FOR2AEAF2H5FGNHSO2PGH2F In quale dei seguenti gruppi il numero 2 è eventualmente preceduto dalla lettera S? JSJH1S2HBZJS2HSDB2SJHBFA In quale dei seguenti gruppi il numero 2 non segue eventualmente il numero 5? 25GI2BEO5P25GN2DF In quale dei seguenti gruppi il numero 3 è immediatamente preceduto dalla lettera S? JSJSFVUS3VFBZJS3FSDB3SJFBFA In quale dei seguenti gruppi il numero 6 è immediatamente preceduto dalla lettera T? XHVU6T6HBJBZJT6HTDU6TWWHDBA In quale dei seguenti gruppi il numero 7 è immediatamente preceduto dalla lettera Z? FJN7ZOR7EAZ7F5ZNFSO7PGF7Z In quale dei seguenti gruppi il numero 7 non segue immediatamente il 4 e il numero 0 non precede immediatamente il numero 6? 0 4 6 4 6 0 7 4 0 4 6 7 4 4 0 0 7 7 6 0 4 6 7 4 0 In quale dei seguenti gruppi il numero 8 è immediatamente preceduto dalla lettera F? S FJNG8F8EAZ8F5FGNFS8PGF8J In quale dei seguenti gruppi il numero 8 non segue immediatamente il numero 2? S GNG8F9L82ですか? In quale dei seguenti gruppi il numero 9 èrijalandeg院vikBZ8UH82BH2RJ8 In quale dei seguenti gruppi il numero 9 è immediatamente preceduto dalla lettera F? m g 9 f o r n 9 f a f 9 f 5 f o n y s o 9 b o f 9 f in quale seguendo il gruppo numero 9 diventa la mente preceduta dalla lettera h s g e 9 h o r 9 e a h 9 h 5 h 2 g n h s o 9 p g h 9 j il quale dei sei grandi gruppi il numero 9 non segue immediatamente il 4 e il numero 9 non precede immediatamente il 2 9 9 4 4 2 9 4 4 0 9 9 4 2 4 2 4 2 2 4 2 9 4 9 2 4 1 3 5 in quale dei sei grandi gruppi il numero 9 non segue immediatamente il numero 1 l b 9 1 a g l b v c e 9 1 u i g h i g l g 9 in quale dei sei grandi gruppi il numero 9 non segue immediatamente l'8 il numero 7 non precede immediatamente il 6 7 7 7 9 9 7 8 6 8 6 7 9 8 7 8 6 9 8 7 8 6 9 8 6 7 8 6 9 8 7 in quale seguendo i gruppi di gruppi la lettera a non precede immediatamente il punto esclamativo la lettera 0 a v e la lettera a 0 a v v 8 6 8 8 9 9 9 7 8 8 8 9 9 in quale dei sei grandi gruppi la lettera d non precede immediatamente la v e la lettera g non segue immediatamente la c V, D, G, V, D, G, V, D, G, C, V, D, G, V, C, C, V, D, C, D In quali dei seguenti gruppi la lettera O non precede metanamente la P e la lettera Q non segue metanamente la R Q, P, O, R, P, O, Q, P, R, R, P, O, R, O, R, P, R, R, O, Q In quali dei seguenti gruppi la lettera P non precede metanamente la lettera R e la lettera S non segue metanamente la X R, P, S, 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 R, X, R, P, X, P, X, R, X In quali dei seguenti gruppi la lettera T non precede metanamente la Y e la lettera M non segue metanamente il 5 ytrytrytry5 ytry5 yt5t5y5 In quale dei secondi gruppi può essere inserito orfico, esoterico, misterioso, occulto, iniziatico, misterico? In quale dei secondi gruppi può essere inserito adamantino, brillante, luminoso, splendente, incorruttibile, sallo? In quale dei seguenti gruppi può essere inserito afroore, pusso, puzza, fetore, lezzo, tanfo? In quale dei secondi gruppi può essere inserito bellumino, feroce, selvaggio, brutale, animalesco, ferino? In quale dei seguenti gruppi può essere inserito per svegliare, ridare, urlare, sbraitare, sevitare, strillare? In quale dei seguenti gruppi può essere inserito bleso, balbuzziente, balbettone, balboi, scilinguato, ciangottone, tartaglioni? In quale dei seguenti gruppi può essere inserito bolso, alzante, ansimante, affannoso, osmatico, trafelato? In quale dei seguenti gruppi può essere inserito brago, fanghiglia, melva, malta, pantano, mota? In quale dei seguenti gruppi può essere inserito cacchettico, deperito, degradato, consumato, defedato, debilitato? In quale dei seguenti gruppi può essere inserito occhiotto, quieto, silenzioso, buono, sommesso, tranquillo? In quale dei seguenti gruppi può essere inserito clangore, sepitio, fragore, rimbombo, frascuono, fracasso? In quale dei seguenti gruppi può essere inserito congesto, affollato, ammucchiato, carico, accumulato, ammassato? In quale dei seguenti gruppi può essere inserito delitido, svenimento, mancamento, valore, scuramento e debolimento? In quale dei seguenti gruppi può essere inserito deprecare, criticare, disapprovare, condannare, piassimare, deplorare? In quale dei seguenti gruppi può essere inserito di lavato, scialbo, smorto, sbiadito, inespressivo, acromatico? In quale dei seguenti gruppi può essere inserito di sceltare, discutere, trattare, disputare, commentare, contentere? In quale dei seguenti gruppi può essere inserito di scelto, succinto, scoposto, sbottonato, aperto? In quale dei seguenti gruppi può essere inserito di scelto, ovigia, abbondanza, ricchezza, prosperità, copiosità, opulenza? In quale dei seguenti gruppi può essere inserito di burneo, chiaro, pallido, allavastrino, candito, latteo, liveo? In quale dei seguenti gruppi può essere inserito di scelto, orare, attenuare, vitigare, addolcire, intonare, temperare? In quale dei seguenti gruppi può essere inserito di nucleare, chiarire, focalizzare, rilevare, evidenziare? In quale dei seguenti gruppi può essere inserito di curreo, erogista, correccio, trattamente, silvavital, materialista? In quale dei seguenti gruppi può essere inserito epitome, compendio, piassunto, sinossi, sintesi, sunto? In quale dei seguenti gruppi può essere inserito esoterico, manifesto, evidente, chiaro, diffuso, pubblico? In quale dei seguenti gruppi può essere inserito faceto, piacevole, arguto, scherzoso, spiritoso, umoristico? In quale dei seguenti gruppi può essere inserito faraginoso, disordinato, caotico, confuso, complicato, sconfussialonato? In quale dei seguenti gruppi può essere inserito granulo, canterino, canoro, cianiero, verboso, loquace? In quale dei seguenti gruppi può essere inserito gruitto, viscero, sudicio, meschino, sordido, trascurato? In quale dei seguenti gruppi può essere inserito ieratico, sacerdotale, grave, sacrale, sacro, austero, solente? In quale dei seguenti gruppi può essere inserito in pesa, trattare, implorare, scongiurare, supplicare, pregare, chiedere, invocare? In quale dei seguenti gruppi può essere inserito in caglio, in passe, stallo, blocco, pastoia, scoglio? In quale dei seguenti gruppi può essere inserito in diverso, passivo, costante, perseverante, accanito, gelante? In quale dei seguenti gruppi può essere inserito in opinato, sorprendente, subitario, repentino, impermesso e inatteso? In quale dei seguenti gruppi può essere inserito in venerare, autenticare, convalidare, autentificare, avvalorare, confermare? In quale dei seguenti gruppi può essere inserito l'ambicarsi, arrovellarsi, divuginare, spremersi il cervello, roversi la testa, intestardissi? In quale dei seguenti gruppi può essere inserito la terva, nascondiglio, rifugio, riparo, tanno? In quale dei seguenti gruppi può essere inserito l'amore, astio, risentimento, accredire, acrimonia, invidia? In quale dei seguenti gruppi può essere inserito l'agletto, trascurato, abbandonato, destruito, dimenticato, ignorato, devevito? In quale dei seguenti gruppi può essere inserito parrossismo, acme, crisi, pulmine, apice, colmo? In quale dei seguenti gruppi può essere inserito pernicioso, dannoso, deleterio, esistenziale, letale, disastroso, rovinoso? In quale dei seguenti gruppi può essere inserito pervicace, capalbio, ostinato, tenace, removibile e indeterminato? In quale dei seguenti gruppi può essere inserito pletora, sovrabbondanza, esagerazione, accesso, pienezza e superanza? In quale dei seguenti gruppi può essere inserito protervia, superbia, arroganza, presunzione, altessosisa, interligia? In quale dei seguenti gruppi può essere inserito quello lamentoso, pianucoloso, frignone, lagnoso, prontolone? In quale dei seguenti gruppi può essere inserito un reglietto abbandonato, deleterio, diservenuto, dispensato, immaginato o negletto? In quale dei seguenti gruppi è riproposta l'identica stringa alfanumerica, paragrafo 0, abice, trattino, 33, chiocciola, 2 punti, 34, m, trattino, 4, w, parentesi quadra aperta, più 1, parentesi quadra aperta, parentesi quadra chiusa? Il video di oggi termina qua, per vedere altri miei video iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche. In quale dei seguenti gruppi può essere inserito per la campanella delle notifiche.